I fonici? Oh schiaffetto, vai! Vai! Alziamo Carlotta! Io chiederei una cosa ai tre uomini, io chiederei una cosa ai tre uomini A questa, a questa! Fai l'imitazione! Ci siamo, ci siamo! Com'è la francese? Uuuu you are, come where you are from Da sotto a giù! Uuuu you are, come where you are from Da sotto a giù! Uuuu you are, come where you are from Da sotto a giù! Uuuu you are, come where you are from Devi imballare con lo idiota d'efficienza! Aaaaaaah! Che cosa faccio? Che tose coi***o! Se vuoi fare la coreografia lui! Ma noi dovrò fare massimo! Aspetta! 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 Aspetta!